ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee finalmente oggi un nuovo video con la fantastica cricut maker 3 e questo è un progetto che non vedevo l'ora di fare da moltissimo tempo e avevo già tentato di fare qualcosa di simile con il mio vecchio plotter da taglio realizzeremo insieme infatti degli sticker con la cricut e li utilizzerò per decorare alcune pagine del mio futuro bullet journal il video è in collaborazione con cricut perché tempo fa mi è stata mandata la maker 3 proprio per realizzare dei contenuti e tra il vario materiale c'era anche proprio questa carta stampabile per adesivi si tratta in realtà di un cartoncino è una carta molto molto pesante con il supporto adesivo sul retro per fare gli stickers andremo a fare un print and cut ovvero li stamperò con la mia stampante epson e poi li taglierò con la cricut i design che andrò a realizzare per questi sticker non li ho fatti io ma li ho scaricati da un sito che si chiama creative fabbrica sul quale ci sono spesso dei contenuti gratuiti quelli che troverete al momento del video non sono gli stessi contenuti che ho io perché questi contenuti gratuiti cambiano continuamente ma troverete altri contenuti gratuiti e vi auguro di trovare dei belli stickers altrimenti ci sono dei contenuti acquistabili sulla app di cricut oppure nei prossimi video vedremo insieme come realizzarli con procreate perché è proprio quello che intendo fare comunque una volta che avrete i vostri design dovrete andare nel menu a sinistra nell'opzione carica e dovrete selezionare il tasto carica immagine da lì avrete la possibilità di andare a caricare le vostre immagini o trascinandole sul programma o cliccando su esplora e selezionandole dal menu io le avevo già caricate quindi ho selezionato su annulla se invece le starete caricando potrete selezionare su continua e vi darà poi diverse opzioni ma questo lo vedremo poi nel dettaglio con gli sticker fatti da noi potete anche appunto caricare tutte le immagini di cui volete fare gli sticker in evidenza per averle sempre a portata di mano nella vostra libreria per poi andarla a selezionare quando dovete preparare il foglio di stampa per la stampa e il taglio cliccando sui tre puntini avrete la possibilità di eliminare le immagini che avete caricato cliccando sull'immagine poi andate su aggiungi alla tela e vi caricherà questa immagine sulla vostra tela di lavoro nel mio caso ha caricato un'immagine molto grande troppo grande per essere stampata come sticker piccolini quindi la vado a ridurre vedete che quando la ingrandite oppure la riducete potete leggere le misure mi sembra che la misura massima utilizzabile per il programma per la funzione di stampa e taglio sia di 16 per 25 centimetri circa forse qualche millimetro in più quindi non dovete cedere con le varie forme oltre quella misura anzi per quanto riguarda la misura verticale i 25 centimetri io vi consiglio di stare anche un po sotto perché altrimenti rischiate che non vi venga stampata la linea sotto del riconoscimento del print and cut mi spiego meglio quando vedremo poi l'esempio più avanti sulla mia tela sono andata a piazzare diversi disegni di sticker regolando ogni volta la posizione e la dimensione per cercare di sfruttare al massimo l'area stampabile per andare ad aggiungere altri sticker alla stessa tela vi basta selezionare sempre dal menu sulla sinistra il tasto carica e dalla vostra libreria andare a scegliere gli altri design che avete caricato in precedenza sempre cliccando sul design che avete scelto e poi su aggiungi alla tela che sta in basso a destra evidenziato in verde poi ogni volta dovete ridurre e posizionare lo sticker è comunque molto buono che vengano in dimensioni grandi perché vuol dire che i file hanno un'alta definizione e potrebbero essere stampati anche di dimensioni molto più grandi poi questo dipende dall'utilizzo ovviamente che ne dovete fare io volevo utilizzare gli adesivi di sopra per il bullet journal e quelli sotto per i miei pacchetti infatti sono una serie di adesivi che sono stati disegnati per promuovere gli small business e riguardano proprio l'impacchettamento cioè pacchetti che si vanno a spedire infatti ad esempio in uno c'è scritto ai proprio buon gusto e in altro c'è scritto spero che questo pacchetto arregri la tua giornata se volete che nel foglio che venga stampato gli sticker mantengano la loro posizione vi consiglio di unire tutti quanti i livelli e io avevo fatto diversi tentativi con gli sticker per i pacchetti e avevo visto che questa era l'opzione migliore però non ho fatto il video mentre facevo i vari tentativi quindi questa è uno degli argomenti di cui vi parlerò nel prossimo video con gli sticker disegnati da me in queste immagini potete vedere quella che è la preview della stampa e quindi potete vedere che vengono tutti design all'interno di una cornice nera quella cornice nera è quella che la cricut va a scansionare tramite una luce che viene proiettata appunto sul foglio e in base alla scansione di quella cornice la cricut va a posizionare il taglio quindi dall'esattezza di quella cornice dipende l'esattezza del taglio se avete fatto un design che supera la dimensione massima stampabile di questa cornice il programma della cricut ve lo dirà vi segnalerà con un simbolo di pericolo e quindi potrete prima di procedere potrete andare a ridurre il disegno in genere basta ridurlo di qualche centimetro e entra tutto nella dimensione massima della cornice appunto comunque per passare dalla schermata precedente a questa schermata io ho cliccato il tasto verde in alto a destra dove c'era scritto crea adesso vedo la preview della stampa e decido che va bene e quindi clicco sul tasto verde in basso dove c'è scritto continua mi chiede di selezionare la stampante era già selezionata e di inviare appunto alla stampante controllo anche qui la configurazione di stampa e quindi la mando in stampa quello che ho notato io è che il mio modello di stampante fatica un po a prendere questo tipo di carta cioè se io la appoggio semplicemente nel caricatore della carta e la lascio lì non la tira dentro quando deve stampare e mi dà la segnalazione di carta assente quindi quando sento che i rulli si mettono in movimento da una leggera spintarella con la mano questo però mi provoca il fatto che forse la carta va leggermente più avanti del punto dove dovrebbe andare e quindi non mi viene la linea nera inferiore che la cricket deve scansionare per fare il taglio io ho fatto diverse prove e ho voluto provare comunque a tagliare quel foglio di carta da sticker visto che ormai l'avevo stampato andando a disegnare la linea nera nelle prime prove che avevo fatto non ero stata precisa nella misura del disegno di questa linea nera nel senso che l'avevo disegnata proprio lì dove si fermavano le linee verticali invece poi sono andata a controllarmi le misure della della linea nera come realmente doveva essere e in questo secondo esperimento la sono andata a disegnare a 25 centimetri e mezzo circa dalla linea nera che sta nella parte superiore del foglio comunque una volta che avete stampato il passaggio successivo da fare quello dell'impostazione del materiale di base io avevo già salvato la carta da sticker stampabile tra i miei materiali preferiti quindi posso trovarla subito altrimenti dovete cliccare su sfoglia tutti i materiali e andare a cercare il materiale sul quale volete fare il taglio selezionate quindi il materiale che desiderate e poi andate a preparare la cricut dovete caricare la lama standard che è la lama punta sottile sul morsetto b e quella che normalmente arriva già con la stampante poi dovete caricare il foglio sul tappetino e premere il pulsante carica scarica che è quello con la doppia freccetta sul mio tappetino adesivo leggero avevo già fatto un po di esperimenti con gli stencil l'ho anche un po rovinato a dire la verità e ha perso un po di adesività quindi per una maggiore sicurezza avevo pensato di mettere il washi tape sui bordi del foglio perché l'ho visto fare anche da altre creative magari con altri tipi di materiali ho notato poi però che il washi tape specialmente se ha dei disegni sopra interferisce probabilmente con la scansione dei bordi per il riconoscimento del print and cut quindi al limite vi consiglio di utilizzare il nastro carta giallo quello senza disegni o un washi tape con un disegno molto molto leggero malgrado il washi tape malgrado la linea inferiore disegnata da me anche un po male col pennarello l'agricut ha riconosciuto il bordo per il print and cut e quindi dopo averlo scansionato sopra e sotto in due punti per ogni lato ha iniziato a tagliare il taglio è venuto meglio negli sticker della parte superiore del foglio ed è venuto leggermente sovrapposto alle scritte nella parte inferiore del foglio probabilmente questo è stato proprio dovuto alle mie imprecisioni cioè al fatto che la linea sotto l'avevo fatta io col pennarello e al fatto che avevo messo il washi tape laterali dopo un paio due tre prove di adesivi sbagliati questa è stata la prima prova che è venuta più o meno decente ovvero quasi tutti gli sticker li ho potuti proprio utilizzare per fare le pagine del bullet journal negli sticker che farò io però vorrei mettere il bordo bianco un po più grande così nel caso di problemi nel print and cut avrò minormente il problema della sovrapposizione del taglio al contenuto stampato degli sticker una volta finito il taglio dovete cliccare di nuovo sul bottoncino con la doppia freccia e poi potete tirar fuori il vostro foglio con gli sticker in questo caso il taglio è andato a incidere anche il retro del foglio con gli sticker avevo la possibilità di alleggerire la pressione della lama quando si va a selezionare il materiale da tagliare in questo caso non l'ho fatto perché gli sticker erano per me ma se dovessi vendere dei fogli con gli sticker dovrei andare a fare una serie di test per vedere come tagliare solo il cartoncino superiore senza tagliare il cartoncino inferiore quindi altro argomento da approfondire in futuro qui vedete come alla fine ho selezionato solamente gli sticker con gli ignomi e quelli con la colazione e il print and cut è venuto perfetto perché mi ha stampato tutto quanto il rettangolo in nero e quindi poi il taglio è venuto meglio rispetto a quello precedente e questo è il motivo per cui vi dicevo di cercare di rimanere al di sotto dei 25 centimetri e mezzo nelle impostazioni del foglio per la stampa e il taglio considerate sempre che io sono in fase di apprendimento del mondo cricket e quindi voglio condividere con voi tutti i passaggi di questo percorso anche i miei tentativi i miei piccoli errori così che anche voi possiate imparare e magari evitare di fare gli stessi errori o sapere perché consiglio di fare una cosa piuttosto che un'altra qui vedete molto velocizzato come sono andata a impostare le pagine del mio futuro bullet journal perché è uno dei progetti che avevo in mente da tanto tempo ho visto infatti che nel mio quotidiano non riesco a disegnare il bullet journal settimana per settimana non riesco proprio a ricavare il tempo per fare tutti questi disegni giorno per giorno o settimana per settimana per questo motivo ho deciso di utilizzare la mia agenda in resina che ho creato in uno dei miei tutorial precedenti per fare un bullet journal predisegnato da me come se fosse un agenda prestampata ma invece di comprare un'agenda stampata la disegno io quindi in questo momento sto utilizzando l'agenda della coconote e poco per volta quando avrò il tempo mi andrò a disegnare qualche pagina del bullet journal in questo modo quando lo avrò completato avrò il mio bullet journal pre compilato un po come quelli che ho acquistato negli anni precedenti e potrò andare a riempirlo poi con gli impegni giornalieri non ho intenzione di stabilire in anticipo il tema del bullet journal ma di volta in volta farò degli esperimenti per ogni set o per ogni due set di pagine e poi così sarà un bullet journal tutto misto un primo esperimento poi magari in futuro mi darò un tema per ogni mese o non so mi inventerò qualcos'altro e poi visto che di solito gli adesivi che sono contenuti con le agende quelli diciamo prestampati da inserire all'interno non sono sempre congeniali alle cose che servono a me credo che mi farò degli adesivi personalizzati per il mio futuro bullet journal qui vi faccio vedere anche un altro esperimento che avevo fatto quando stavo testando l'impaginazione del print and cut e lo avevo fatto con un cartoncino normale da 250 grammi perché avevo visto che più o meno era la stessa pesantezza che aveva la carta da sticker e infatti tagliandolo con le stesse impostazioni lo taglia perfettamente e completamente lo taglia proprio da sopra sotto perché qui non c'è il retroadesivo questo cartoncino però la stampante lo prende bene e mi aveva stampato tutto il bordo nero malgrado il bordo nero fosse stampato tutto completamente una parte del taglio veniva sovrapposta alle scritte all'interno e da qui ho capito che probabilmente su questi sticker che non erano stati fatti da me il bordo bianco intorno doveva essere fatto più grande per evitare questo tipo di problemi la stessa cosa si è verificata anche sul foglio che vedete qui mancava la linea sotto infatti la vedete che è irregolare l'avevo tracciata io non nella misura giusta per cui mi ha tagliato bene le prime due righe di sticker e le altre righe di sticker le ha tagliate male qui avevo provato a tracciarla e poi ci ho ripensato l'ho cancellata ho visto che sarebbe andata oltre il foglio e quindi la terza prova di stampa degli sticker l'ho poi tagliata con un taglierino facendo tutti i sticker rettangolari quindi nei prossimi pacchetti ci saranno un po di sticker proprio mix con tutti i diversi esperimenti ma sono sicura che quando arriverò alla fine di questo percorso di apprendimento con la cricut riuscirò a fare i miei sticker personalizzati magari anche brandizzati e quindi non dimenticate di iscrivervi al canale magari anche di lasciare un like per supportarmi perché faremo insieme proprio questo percorso di apprendimento attraverso anche esperimenti e sbagli per arrivare poi alla definizione di una serie di articoli per personalizzare i pacchettini per migliorare il nostro brand e anche per decorare i nostri bullet journal se avete altre domande o idee per gli sticker mi raccomando scrivetele nei commenti volevo dirvi soprattutto che questi sono degli sticker in carta e non in plastica quindi questo tipo di sticker non si possono utilizzare dentro la resina sto facendo un po di ricerche sui materiali possibili da stampare utilizzare nella resina ma temo che la resina vada a dissolvere l'inchiostro quindi lasciatemi un po studiare prima di potervi dare delle risposte in questo senso potrete però utilizzare naturalmente gli sticker in vinile come vi ho fatto vedere in uno dei video precedenti io ora vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video ciao ciao